Welcome back e ben ritrovati! In un nuovo video della carriera allenatore con il Foggia Calcio! Inizio questo video con il ringraziarvi, perché siete sempre in tantissimi a seguire questa serie e a commentare. È un momento difficile per YouTube perché non a tutti gli iscritti arrivano le notifiche dei video, quindi io vi ringrazio a tutti voi che comunque siete sempre presenti in ogni episodio e se potete, se volete, condividete questo video con tutti i vostri amici. Iniziamo con i saluti a tutti coloro che hanno commentato sotto il diciottesimo episodio con hashtag superiamolacapolista, ringrazio Giorgio Ventrone, l'U3kChannel, TheFakes che come al solito ci scrive tutta l'analisi della partita, Lorenzo01, ed infine Mattia Niro che ringrazio in modo particolare perché ha fatto parte dello scorso episodio con il commento tecnico. Detto questo, se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like e noi iniziamo subito perché gli allenamenti sono stati fatti e all'orizzonte c'è la prima partita, non tanto importante perché giochiamo contro il Frosinone, quindi partita che andrete a vedere in supersintesi. iscriviti al canale iscriviti al canale la risolvono Bruno Gama e Christian Gittkier, il nostro gigante bomber che segna quasi in ogni partita. Noi abbiamo fatto come al solito gli allenamenti settimanali, c'è un'altra partita sempre in supersintesi, giochiamo in casa, Alpino Zaccheria contro la SPAL. Alpino Zaccheria contro la SPAL. Alpino Zaccheria contro la SPAL. Grazie a tutti. 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 E noi ci vediamo in un nuovo video.